La maxinchiesta antimafia a Tetragona consente di ricostruire una presunta ragnatela di affari economici e di imposizioni estorsive riconducibili alla famiglia di Cosa Nostra Gelese con forti ramificazioni nel nord Italia dopo le condanne di primo e secondo grado anche ai danni di professionisti che sarebbero stati vicini ai gruppi di mafia. Saranno i giudici di Cassazione a giugno ad emettere l'ultima decisione, i ricorsi delle difese sono stati depositati e l'udienza davanti ai magistrati romani si sarebbe dovuta tenere la scorsa settimana. L'emergenza coronavirus ha fatto slittare tutto e se ne riparlerà a fine giugno per alcune posizioni. Due anni fa i giudici della corte d'appello di Caltanissetta ridussero l'entità delle condanne ma comunque confermando l'impianto accusatorio già vagliato in primo grado dal collegio penale del tribunale di Gela. Al termine del giudizio di secondo grado i magistrati e nisseni imposero nove anni a Giuseppe Episcopo in continuazione con una precedente sentenza accusato di aver sottoposto l'essorsione i titolari di due supermercati a Caposoprano e Scavone. Sette anni ad Aldo Pione condannato a nove anni di reclusione invece in primo grado è considerato il collegamento strategico tra la provincia di Varese e il boss Gino Rinsivillo che faceva base a Roma. Cinque anni e otto mesi di reclusione ad Armando Dharma in primo grado alla condanna a tre anni e sei mesi si aggiunse quella a otto anni e sei mesi con l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso per uno dei capi di imputazione tre anni e otto mesi ad Alessandro Farruggia a fronte dei quattro anni e quattro mesi di primo grado ritenuto coinvolto nella tentata estorsione danni del gruppo imprenditoriale gestito dai fratelli Brigadieci tre anni e sei mesi ad Emanuele Monachella in primo grado alla condanna a tre anni e sei mesi si aggiunse quella a dieci anni e sei mesi già accusato di far parte del clan di Cosa Nostra attivo soprattutto a Genova e dell'estorsione all'imprenditore Edile Emanuele Mondello un anno e otto mesi ancora al collaboratore di giustizia fortunato Ferracane in primo grado condannato a due anni e sei mesi. I giudici di appello inoltre accertarono l'avvenuta prescrizione del capo di imputazione contestato da Angelo Bruno Greco e Giuseppe Truculento in primo grado condannati a tre anni e sei mesi di reclusione ciascuno. Venne confermata la condanna a nove anni di reclusione a Salvatore Burgio in primo grado le assoluzioni arrivarono solo per i collaboratori di giustizia Rosario Trubbia e Nunzio Licata e per Pietro Caglielli Claudio Conti e Sebastiano Pelle. Nei precedenti gradi giudizio fu riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore delle parti civili comprese le vittime delle estorsioni ricostruite dagli inquirenti. Si tratta dell'associazione antiracket Gaetano Giordano e della FAI rappresentate dall'avvocato Giuseppe Panebianco, dell'imprenditore Emanuele Mondello con il legale Vittorio Giardino, dei titolari dei due supermercati Nunzio Di Pietro e Cristoforo Infurna di Confindustria, Nissena e Diorazzo e Claudio Brigadieci. I giudici di Cassazione però si pronunceranno soltanto il prossimo giugno.